L'architettura di Michelangelo, genio del Rinascimento italiano, ha confronto con quella di cinque maestri contemporanei, come Piano, Maggiora, Cuma, Silvestrin e Zucchi. I progetti per la facciata di San Lorenzo e gli studi per le fortificazioni, fianco a fianco con quelli per il recupero delle periferie e la trasformazione del territorio. È l'anima di Rinascimenti, mostra alla Biblioteca Archimede di Settimo Torinese, che unisce, al plurale, il periodo artistico e la rinascita di un'area periferica di 850.000 m2, dove sono partiti i cantieri per la costruzione di Laguna Verde, esempio di architettura sostenibile e innovativa. Rinascimenti è il titolo della mostra e prova a mettere assieme un maestro del Rinascimento come Michelangelo con la volontà di rinascimento che ritroviamo in Laguna Verde. Lo ritroviamo nelle periferie e Settimo Torinese sicuramente è una periferia, però queste periferie oggi stanno diventando un'opportunità e almeno in alcuni casi, come è il caso di Settimo Torinese e di Laguna Verde, questa opportunità la stiamo scrivendo. Uno degli ingredienti è sicuramente la cultura. Noi pensiamo che la cultura possa essere un motore del nuovo rinascimento. Lo può essere perché fa da ponte fra le esigenze delle persone e le esigenze pur giuste, economiche, delle trasformazioni urbane. Io ritengo interessante questa mostra per il fatto che si mettono in relazione gli architetti contemporanei con Michelangelo Bonarroti architetto ed è importante per il nostro territorio in quanto sta partendo con la costruzione del Torino Outlet Village il primo tassello di quella grande trasformazione urbana che è Laguna Verde e quindi questa mostra oltre alla sua valenza culturale ha il pregio di portare al centro dell'attenzione direi almeno regionale il progetto di Laguna Verde che per noi è importantissimo. La mostra propone 14 disegni del Michelangelo architetto provenienti da Casa Bonarroti e una serie di isole con i lavori degli architetti coinvolti nel progetto Laguna Verde. Renzo Piano che ha progettato l'ampliamento della Pirelli, Cino Zucchi progettista della nuova sede Lavazza e vincitore del concorso per la realizzazione del primo lotto residenziale e terziario, Kengo Kuma architetto giapponese che ha curato un workshop con gli studenti del Politecnico di Torino e dell'Università di Tokyo, Pier Paolo Maggiora che ha progettato e redatto il primo masterplan e Claudio Silvestrin, progettista della Torino Outlet Fashion Village, grande polo del lusso che sorgerà nell'area. Gli architetti in mostra che sono tutti architetti di primo piano dello scenario internazionale si dialogano con Michelangelo con 14 disegni selezionati dalla Fondazione Casa Bonarroti e questa selezione lavora sull'asse committenza, materiali e riscrittura il testo metropolitano in un'ottica di rinascita, rigenerazione degli spazi territoriali e degli spazi metropolitani. Michelangelo Bonarroti arriva a Settimo Torinese con 14 progetti di architettura, arriva il rinascimento in una città che con i grandi architetti vuole rinascere, vuole ripensare proprio il territorio urbano. Questa mostra è una mostra di concezione completamente nuova che rovescia lo schema e la periferia di ieri oggi diventa centro di una nuova idea di cultura. Rinascimenti alla Biblioteca Archimede di Settimo Torinese sarà aperta fino al 28 febbraio, da lunedì al sabato 9.19, domenica e festivi 10.18.